Il 9 e il 10 di febbraio al Teatro Cardinal Massaia di Torino c'è il Tenente Colombo. C'è il Tenente Colombo. Ciao Paola, è un piacere incontrarti. Ti presento Marco Manzini. Lui è l'assassino, io sono il Tenente Colombo. Adesso mi vedete con la barba e il cappello, ma sono pronto, voglio dire, a indossare il mitico impermeabile. Eccolo qui, tutti i fan vorranno capire se è lo stesso. Già da questo potete vedere che è lo stesso identico impermeabile, intossato da Peter Falk, fatto sugli stessi disegni originali, che sono riuscito a trovare fortunatamente. È stata una grandissima emozione, sia riuscire ad avere i diritti esclusivi, perché noi non siamo farlocchi. Paola, questo è lo spettacolo originale del Tenente Colombo, scritto da Levison e Link, che sono gli autori storici e anche gli autori della Signora in Giallo. Quindi, e questa è, diciamo, una delle commedie, uno dei trilli in giallo forse più belli che siano mai stati fatti e sono orgoglioso di averlo portato per la prima volta in Italia. E una cosa che mi ha appena, appunto, spiegato Fabio è che si sa subito chi è l'assassino e se lui fa il Tenente tu sarai l'assassino. Esattamente. Si scopre subito e la cosa bella dello spettacolo è proprio riuscire a capire in che modo il Tenente Colombo riesce piano piano ad arrivarci, nonostante il mio personaggio abbia, insomma, architettato un piano veramente diabolico, pensando a tutti i particolari. Però, alla fine, si ritrova di fronte a un avversario davvero temibile, perché al Tenente Colombo, come si sa, non sfugge mai nulla. Io pensavo che fosse nato prima il film e poi lo spettacolo teatrale, invece, no, è il contrario, mi dicevi. Storicamente, le Vision e Link scrissero, ai primi degli anni Sessanta, prescrizione omicidio, senza il nome del Tenente Colombo. Poi c'è stata una trasposizione, il primissimo episodio è stato tratto dall'opera teatrale ed è sempre rimasta in produzione, voglio dire, soprattutto in America e soprattutto negli ultimi 15 anni, questo richiamo al Tenente Colombo come spettacolo teatrale. Complicato da mettere in scena, anche a livello scenografico, abbiamo la bellezza di quattro ambienti, quindi uno spettacolo complesso.